Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Hearthstone Guarda quanti boss ragazzi dobbiamo combattere il secondo boss dell'ala dei combattenti che è il Razoblidodoss Andiamo ancora col mar... aspetta vedi che abilità c'ha? Pesca una carta E dai Guarda pesca una carta Sfida a pescare Dai sfidiamoci che pesca di più Che pesca scarta Che pesca... Che ruba mazzo Che ruba il mazzo se ne va un tazzo Nella tazza Con latte, caffè e cioccolato E i cereali E i cioccoli crispy Pubblicità Occulta Ok Ah si? Mi fa piacere Questo non mi piace Via Ma notare che sto iniziando sempre per... Sempre per primo eh Non ho mai iniziato per secondo Questa cosa me la devo un po' spiegare E vabbè Quindi praticamente la succube Non la giocherò mai Perché pescherò tutti i demoni del mazzo E poi... Giustamente Se la gioco? Ci sono problemi Ma che me frega Ma che me frega? C'erano due Cioè alla fine non è che sia tutto Sto grande Ecco Comincio a fare cose che non... Evoca un guerriero Che fa? Che fa questo? Evoca un guerriero Spettrale sotto controllo Bello Grazie Ma quanto sei gentile Ok Io che faccio? Attacco Mando i miei murloc I miei murloc Spavadi Spavaldi Anzi ne mando solo uno Che pesco Che attacco E che fa sto coso? 0-4 All'inizio del tuo turno Infliggi un donna Tu scherzi vero? Cioè tu mi stai prendendo Per i fondelli vero? Io devo tenermi in team A quel coso? Seriamente? No tipo Tipo no A me mi interessa Che lui prenda attacco No perché tanto morirà Ma fatemi pensare un attimo eh Sì mi interessa Che lui prenda attacco Perché non deve morire Ma lui deve morire Come lo uccido ma questo? Che gli racconti? Sono diventati fortissimi Sti murloc A me mi dispiace buttarle via Come mi faccio a fare un danno a questo? Non mi faccio Aspetto il prossimo turno Salto il turno Ma tanto se non attacca lui Che gli fa? Ma questo qui mi fa un danno Non scherzi Cioè io praticamente sto Ho 30 turni Cioè fra 27 turni ho perso La gente che se spamma Questa è perfetta GG a te che in un to Dici ma mi ti voglio tanto bene Però aspetta Sì si fa benissimo Se questa muore Fa un danno a tutti Bella questa È con la mia chance Deve uccide quella Un danno a tutti Vai Mi muore anche il mio Ma non mi interessa Perché? Perché loro rimangono uno Cominciamo a ammazzare Questo che fa l'antolo? Scusami eh L'antolo di morte Evocano aglievo Ehi È sempre uno così No dai Ma che sta a fa? No no Stiamo a regolare Qua Zero eh E che fa questo? Sì vabbè Ma che stai a dire? Eh bravo sei forte Bravo Applauso Bravo 10 punti anche il fondoro Mi sto morendo Da questi cosi Che mi ha appiccicato lui Con zero di attacco Tredutto Eh io pesco due devoli Che devo fare? Eeeh Buono Buonissimo Fantastico Vai Bam Giù nel canestro Posso farcela? Ok posso farcela E questo Che cacchio è? L'antolo di morte Che fa? Evoca un cavaliere Aspettare Ah tu Un altro combo Sì schifo Prima attacco con lui Poi attacco con lui E poi infernale Dalla violenza che ci può essere Adesso diretto E distruggo Minaccia La tua anima Soffrirà Eh sì Te l'hai perso? C'è sette Ah però questo è quello che infligge due danni a tutti Questo mi sarà molto utile Vediamo che pesco Bella raga Ok vado eh Aspetta Come faccio a fare un danno a lui? Non faccio Lo prendo cinque danni in faccia poi Ok l'infernale mi muore Muore infernale Però muore anche tutto il resto Eh devo pescare quello qui con carica raga Ti prego da che lo pesco? Il demone con carica? No Però posso curarmi Posso curarmi però Pesco? Pesco? Eh dai Ma no dai Cos'è questa mafia? Pesco dai Magari mi esce il demone con carica Cazzo Però aspetta Posso Questo mi aiuterà a durare un turno in più Va bene Bravo sei forte No no bravo Complimenti Prego prego Sfascia mille Tranquillo Infernale L'infernale può essere la soluzione Devo pescare un'altra carta Ecco la soluzione La soluzione è qui È tra noi È carica Con più un al danno dei murloc E vince È la vittoria E c'è E c'è Cazzo che percone Vaffa mia Detto pescaggio Yeah Ma questa è una carta normale Vale vale Ha perso di brutto anche Che leggendaria prendo Gisù Bello Il barone Rivendare Che c'è? Non vedo l'ora di godermi Questo sconto Ah sì Io contro Rivendare Ragazzi Dio il mio segno Cioè 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 io Stratolm In WoW Stratolm L'ho fatta un milione di volte Cioè ho fatto talmente tante volte Stratolm Che mi ricordo i blocchi Io vi sarei a dire Quanti mattoni ci sono Dall'entrata al boss Che poi i blocchi per terra L'ho contato di tutti Uno per uno Scherzi Vero? Cioè l'eroe immune Ha Tre cavaliere È vero Perché C'è proprio come nel boss di WoW Raga Bellissimo I vecchi ricordi Mamma mia Mamma mia I vecchi ricordi Raga Tu stiamo In questa istanza Che bello Ah 7HP Però È vero raga Perché Rivendell Si toglieva lo scudo Quando Quando ammazzava i suoi aiutanti Che figata Devo usare questa Non so se usare questo O questo Però questa è buona Perché l'ha avuto in mezzo Uno di questi cavaliere E vabbè È stufato però Ah No no Demoni 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 Vai vai Venite demoni Venite a me Oh Vai 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 Bordello Ok La prossima gioco Uno Due Tre Quattro GG Ah no Non la posso giocare Non posso rischiare Di perdere questo Mi serve Non mi uccidi Quanto pare non basta Sono più figo io Come la mettiamo Mi sta facendo venire nervoso Questo così Sette 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 Vai tu Vai tu Che faccio Pesco Maledento Maledento Vado Lo sapevo Porca Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo È stufato Pure E dai Mi ha tolto tutti i mostri Io che faccio No Perché mi ha attaccato lui Che 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 significa Questo è odio puro Questo è odio represso Verso il mio servitore Questo è odio represso Seriamente Io pesco Che devo fare Ecco Buono Vai E chi attacco Questo Questo Vai Faccio più danno possibile A quelli che posso Almeno Li faccio 4 Sembra Maledento 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 Oh mio dio Che male che mi fa adesso Appunto Mamma salute Bella GG Ma questi due non si potenziano più a vicenda Sono spenti Sono addormentati Questa è una bella carta Perché Perché io Pesco E GG È un andato A casa Chicco Questa è una brutta cosa Oh Si sono potenziali Finalmente Posso giocare l'infernale Che cazzo Mi ha tirato Ma ha arato praticamente Cioè mi ha fatto Mi ha proprio distrutto Vabbè ragazzi Questo mazzo Non è adatto a combattere questo tizio Perché ha già un mostro in gioco Il mio mazzo deve essere lento Deve accumularsi Con calma Questo è già avviato lui In un posto Compete proprio Cioè c'è proprio Va Finito Finito Il mio mazzo È un mazzo che deve prendere via Non può partire già con lui Il mostro in gioco Ma ammazza i mostri a me E io che gioco fa Non è adatto a sto mazzo Cambiamo Mantiamo Il rogo non sarebbe una Che ti vede Ma anche il mago Sia rogo che il mago Vediamo un attimo Oh il prete Il prete è sicuro Mi fanno uno 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 Io mi creo Mamma mia raga Questo sarà il video più lungo della storia Ma non mi interessa Vai Non mi interessa Non mi interessa Viaggia 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 Ok abbiamo questi tre tizi Questa non mi piace Via Questa mi piace In parte Questo è un nì È un nì No questo è un sì No un nì Questo è un sì Cazzo Bello Vai Perché loro mi fanno uno Mi potenziano l'attacco Meglio se mi attaccano Divento più figo e più potente Giocato insieme a questa Ancora più forte Dammi una carta buona Oh Con calma ragazzi Ci abbiamo tempo Devo fare accumulare il mana Devo arrivare a quattro mana A tre gioco quello Sì 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 A tre gioco lui C'è quanto Sto tentato di giocare lei Mamma mia quanto Sto tentato Mamma mia Quanta tentazione C'ho in me Vedete ragazzi Posso recuperare i danni Che mi fanno Mamma mia È bello sto mazzo Sarò la svolta Avete notato Che non sta giocando mostri Lui È fatto bene Sto RPG È molto È proprio il mazzo mio Di prima Che era proprio inutile Contro dell'ordine Inutile proprio Vai attaccatemi tutti lui Dai dai Quattro per uno Ve faccio Ecco un figlio quattro Ciao C'ho tutte magie Lui campano solo Questi cavalieri del cavolo Che se li pompa Pezzo di zero Adesso tocca a me Guarda che te faccio Guarda che te combino È il momento di spargere Usang Mo' io vedo che te ha 20 Contro di lui Ah Questa potrebbe essere Una bella menzione Ah ma attacca diretto Mi ignora direttamente Mo' te faccio Mo' te faccio Vedi io Tu mi ignori a me Scherziamo vero Cioè lui mi ha ignorato ragazzi Mi rendete conto che Mi ha ignorato Io spacco tutto qui Voi non vi rendete conto Io Spacco tutto Dai Ho messo lo scudo pure a lei Vai Questa che fa danno pure a lei Se mi attacchi Beh in parte perché Cioè Si è suicidato praticamente Ha perso GG Ho vinto Ho vinto Si è suicidato Bellissimo Che devo dire Adesso pesco 8000 carte GG raga GG Veramente 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 GG E uno andava Segreto Vai fai 3-2 A me che me frega Io mi potenzio i miei mostri Ma La faccia 2 Tiè Mi sto a potenziare tutti Tutti uno per uno A me che me frega Pure a te vai Chi vuoi essere curato Te Te Chi curo Lei così rinasce Lui Così non muore Lei così non muore Vai Più vida A me che me frega Vai tu Ammazza lui Ma C'è proprio sciallo Proprio Tiè Va Guarda altre cure Guarda Guarda Vai Tiè 8000 carte Qualcos'altro A posto Omniscienza del prete Proprio questo Arato proprio C'è che se inventa Eh ragazzi È bella questa cosa di Nax Perché devi usare il mazzo giusto Perché altrimenti Vabbè dai L'altra carta Oh basta Ti esplode tutto qui Oh Bonnie E vabbè Esplosa la mano No Vedi attacco questa Distruggisì C'è 9 d'attacco Minimo E questo su chi Eeeh Che sarà mai E questo in che modo Ah perché me l'attacco Ah beh Scusa C'ho questo con 3-7 Pronto Farti il culo Cioè praticamente Se io ammazzo questo Adesso Non è piena Sì Guarda la roba che c'ho Minimo E allora Scegliamo Cosa giochi chiare Cosa giochi chiare Così Ui Bam Giù nel canestro Eeeh È scoperto È scoperto 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 Vai Tocca a te Tocca a te Tocca a te Piccolo piccolo scoperto Hai perso Hai perso Piccolo scoperto Hai perso Il prete non lo fermi Ah mi fa 4 danno Eh io ti faccio 6 C'ho 2 da 6 Che fai E beh Hai perso 6 Mi dispiace bello Hai perso Ho vinto Mamma mia pure sto boss Dammi la carta va Dammi pure la leggendaria Sgancia va Sì di servitore in gamba Dammi Dammi Stava leggendaria Va tutta mia Bello 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 Sì La far leggendaria Il barone fiera morte Oh nuove sfide di classe Ragazzi le sfide di classe Le facciamo alla fine di tutto Va bene ragazzi Anche per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo Mi raccomando Se vi sono piaciute le sfide Fatevelo sapere Scrivetevi i commenti Ciao